All'interno della casa di reclusione di Favignana sono ospitati al momento 58 detenuti, quasi tutti con ergastoli o lunghe pene da scontare. Per 15 di loro da marzo ci sarà la possibilità di lavorare sino ad otto ore giornaliere all'esterno del carcere, grazie a un progetto curato dal Comune e dal Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria. Saranno impegnati in attività di pulizia e tutela dell'ambiente, a cominciare dalle spiagge e dal verde pubblico. Per fortuna c'è una squadra a livello di attività psicopedagogica molto valida e quindi i detenuti trovano proprio in questi operatori una spalla importante per potersi proiettare verso l'esterno. I lavori di pubblica utilità sono anche un primo passo per creare questo ponte tra il carcere e la società esterna e quindi favorire sempre di più questo ritorno nella società civile. All'interno della casa di reclusione sarà presto riattivato un laboratorio di sartoria. Qui un altro progetto prevede l'istituzione di corsi di formazione con la possibilità di creare prodotti da vendere nei negozi di un'isola che al momento, senza casi di Covid, aspetta con ansia il ritorno dei normali flussi turistici. Il detenuto qui deve essere concepito come trattenuto nel senso più nobile del termine, quindi se ha delle propensioni anche artigianali le deve mettere al servizio di se stesso, ma soprattutto perché può essere un veicolo per la popolazione, quindi per il territorio, l'indotto del territorio e l'indotto del turismo. Intanto il comune di Favignano ha richiesto allo Stato la restituzione dello storico forte di San Giacomo, struttura che si trova all'interno della casa di reclusione. Il progetto è di farne un polo museale seguendo il fortunato esempio dell'ex stabilimento Florio.